Buonasera a tutti, io sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Anche questa sera siamo qui al nostro giovedì di EIT, in cui ormai da due anni, era maggio 2020 quando li abbiamo fatti partire, ci vediamo a chiacchierare un po' di ricerca, di innovazione con tanti esperti, tanti scienziati, tanti innovatori delle università, dei centri di ricerca, delle imprese. Questa sera abbiamo il grandissimo piacere di avere il dottor Roberto Regazzoni e non vi tedio oltre, come tutte le volte ricordo a tutti che anche questo incontro viene registrato e verrà pubblicato sulla nostra pagina YouTube e questo a favore come informazione per tutti i partecipanti, in modo che potranno regolarsi con i diritti della privacy. Lascio la parola alla dottoressa Maria Pelizzo, che potrà introdurre il nostro ospite e non prendo più tempo. Quindi Maria, lascio la parola a te. Bene, grazie Paolo. Allora, intanto è con grandissimo piacere che appunto ho l'opportunità di presentarvi Roberto Regazzoni. Roberto Regazzoni è un professore ordinario del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. È stato un astronomo ordinario INAF ed è attualmente direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova. Roberto è noto nella comunità scientifica per essere stato un grande innovatore nel campo dei telescopi, delle tecnologie dei telescopi, sia per applicazioni nello spazio, sia da terra. Ad esempio lui è coinvolto nelle emissioni Chaos e Plato, quindi nello sviluppo di telescopi per la ricerca di pianeti extrasolari. E poi ha ad esempio progettato, anzi ideato, la Wide Angle Camera, che è quella camera che ci ha permesso di vedere la cometa visitata dalla sonda spaziale Rosetta. È in particolare considerato a sua scala internazionale un grandissimo innovatore nel campo dell'ottica dattiva, che è l'argomento di cui ci parlerà oggi. Credo che non ci sia un grande telescopio a terra che non abbia le sue tecnologie relative ai sensori di fronte d'onda. È membro del Board of Large Binocular Telescope, ha contribuito al telescopio nazionale Galileo. Quindi, sì, diciamo, non conosco grandi telescopi a terra, insomma, che non adottino le tecnologie che lui ha concepito. Ed ecco, credo, l'argomento di cui ci parlerà oggi. Ed è con piacere che lo ascoltiamo perché è anche un grandissimo divulgatore, quindi uno a cui piace parlare sia di scienza e abbinare anche scienza ad altre cose, musica, teatro. Quindi lo ringrazio moltissimo e ovviamente gli lascio la parola. Grazie, Roberto. Grazie, Maria. E grazie al direttore Paolo Ravazzani, che ci siamo così visti. Grazie a tutti e a tutti di essere qui. Io adesso, abbiamo fatto le prove prima, cerco di fare lo share dello screen e di far partire la presentazione, sperando che vada tutto liscio come andava prima. Si vede bene? La mia prima slide? Io la vedo bene. Io la vedo benissimo. Perfetto, ok. Benissimo, mi sono permesso, ormai mi avete già ultra presentato, quindi posso solo fare, posso solo deludervi a questo punto da tutte queste presentazioni. Mi sono permesso di sostituire le due Z del mio cognome qui nella prima slide con l'analogo translitterato dall'alfabeto ucraino, che devo dire è anche dell'alfabeto cirillico, ma va bene per ricordare noi stessi stiamo ospitando un paio di persone, di astronome da Kharkiv. Ogni anno c'era un incontro sull'astronomia, che è principalmente a radioastronomia, vicino a Kharkiv c'è un Kharkiv che oramai non devo spiegarvi dov'è, che è un grande radiotelescopio, però sono interessato in generale all'astronomia e anche io sono stato più volte, devo dire, fa una certa impressione vedere alcune delle scene nei posti che la piazza che avevo visto di persona. Ne approfitto anche per ricordare che io sono ragazzoni e non regazzoni, che era il famoso pilota, diciamo che lei è ragazzoni, invece sono colà, ma questa è una battuta perché ho visto che è circolato. Continuo, diciamo, sull'onda della presentazione di Maria, questa è una foto aerea dell'osservatorio astronomico di Padova, la specola, e qui in alto a destra vedete questa torre che rappresenta, se vogliamo, il passato, e in questa foto è stata fatta in un momento particolare in cui avevamo chiesto a dei ragazzini di una scuola media, ognuno di prendere un esagono da un metro e ottanta e formare una grande superficie di circa 40 metri che rappresenta il futuro dell'astronomia e cioè i grandi telescopi del futuro che non sono fatti, i grandi telescopi non sono fatti con lenti, sono fatti con specchi, e non solo ma quasi sempre questi specchi non sono singoli, ma sono come un grande pavimento, non è fatta da un'unica grande mattonella, ma da tante mattonelle che si compongono, anche gli specchi di grandi dimensioni oggi sono formati in questo modo. Qui vediamo un'altra situazione simile, questa invece è di uno dei telescopi di Asiago, qui in alto a sinistra si vede un telescopio da un metro e ventidue centimetri, che è stato per un breve periodo il telescopio più grande d'Europa nel primo dopoguerra della seconda guerra mondiale, mentre lì in basso a destra, in questo caso i bambini che rappresentano probabilmente qualcuno, almeno di questi gli astronomi del domani o gli ingegneri che costruiranno telescopi come questi o più grandi, intorno a questo simulacro della superficie di un telescopio che allora doveva essere da 39 metri di diametro. Allora intanto voi avete capito che gli astronomi hanno delle manie di grandezza e per quale motivo gli astronomi vogliono costruire grandi telescopi? Uno è banale, diciamo, la luce delle stelle è estremamente debole, quindi se uno ha un bacino, un catino di raccolta più grande possibile, permette di raccogliere più luce, quindi un grande telescopio raccoglie più luce di un telescopio piccolo, ma può anche, diciamo, usando, non devo spiegare a questo pubblico, diciamo che l'apertura fa sì che la radiazione e le onde elettromagnetiche possono essere discernite, diciamo, percepite da un angolo estremamente piccolo, questo è un esperimento che io faccio spesso, diciamo, anche con il pubblico, quello di fare un cono passivo, a volte uso un vero cono, diciamo, semplicemente il fatto che, per esempio, la voce esca da una superficie più grande gli permette di indirizzarle in una direzione più canalizzata e quindi apparentemente per il pubblico che è di fronte a sé di ricevere più energia, anche se questa è una conseguenza della teoria ondulatoria, diciamo, in realtà era noto anche in tempi passati ed è, mi piace ricordare che molte maschere, diciamo, del teatro greco erano costruite in modo da avere una bocca, un'apertura più grande in modo proprio da permettere al suono di essere concentrato verso la platea e quindi di fare percepire, di focalizzare la luce. Naturalmente, quindi, quello che conta in un telescopio è il diametro, il diametro del telescopio, quello che conta di stimolo del telescopio non è quanti ingrandimenti fa, una tipica domanda che capita di sentire quanti ingrandimenti fa questo telescopio, ovviamente è sbagliata, il problema è il diametro. Allora, vedete, in Italia abbiamo telescopi della classe 2 metri, tra 1 e 2 metri, il telescopio di Asiago, i due telescopi di Asiago da 1,20 e da 1,80, abbiamo poi costruito un telescopio da 3 metri e mezzo alle isole Canari, il cosiddetto telescopio nazionale Galileo, poi noi facciamo parte di due consorzi, uno di un consorzio europeo che ha 4 telescopi da 8,2 metri nel Cile e un telescopio che ha 2 specchi da 8,4 metri, qui noterete che il fatto che gli specchi sono da 8,2, 8,4 è perché quello che viene dopo ovviamente vuol fare lo specchio un pochino più grande di quello che viene prima per dire che ha fatto lo specchio più grande del mondo e qui già iniziata a vedere che la gente inizia a mettere più di uno specchio, erano 4 i telescopi del VLT, qui invece sono due specchi su un'unica montatura e quando si sale a dimensioni maggiori il telescopio da 30 metri che fa un consorzio internazionale capitanato la California è 30 metri di diametro e 37-39 metri è l'European Extreme Large Telescope che è un telescopio che è in avanzata fase di costruzione sempre nell'emisfero meridionale diciamo. Ovviamente il termine diametro perde diciamo un pochino di senso perché un telescopio composto da una serie di segmenti ha un bordo frastagliato quindi diciamo è il diametro equivalente al diametro efficace di raccolta della luce mentre lo specchio in alto che vedete è lo specchio da 8,4 metri è lo specchio unico più grande mai realizzato che viene costruito sotto lo stadio del regno americano di Tucson in Arizona. Se noi mettiamo tutti gli specchi del mondo diciamo che vengono costruiti per telescopi che attualmente in questo momento ci sono lì, potete vedere in questa figura, vedete che grosso modo sono divisi fra l'emisfero nord e l'emisfero sud, è utile ricordare a chi non è astronomo che l'astronomo se costruisce un grande telescopio al nord magari non può osservare le numi di Magellano che si osservano al sud, se fa un telescopio al sud non può osservare la galassia di Andromeda che invece si osserva solo nuova, per cui la gente tende a costruire diciamo dei telescopi sia al nord che al sud è un caso esemplare, è un telescopio che non a caso si chiama Gemini che vedete uno specchio, sono due telescopi identici gemelli uno è stato costruito nell'emisfero nord e uno è stato costruito nell'emisfero sud va bene, quindi tutto bene, costruiamo grandi telescopi, raccogliamo tanta luce e in linea di principio riusciamo a vedere con un'acuità visiva estremamente grande ecco vi dicevo che questi specchi non sono più costruiti con specchi monolitici oltre una certa dimensione, questo è il primo precursore, il telescopio Keck scusate, Isola Hawaii, che è fatto con dei segmenti, ognuno di questi segmenti è grande circa, ognuno di questi esagoni è grande circa come il telescopio più grande che abbiamo adesso su suolo italiano che è quello sull'antipiano di Asiago e anche chi riesce a costruire degli specchi sferici, siamo a simmetria circolare diciamo molto grandi, considerando il costo di costruire l'infrastruttura per tenerlo preferisce mettere due specchi nella stessa infrastruttura così risparmia, fa un'economia di scala e fa in modo che più di uno specchio focalizzi la luce in un unico punto oppure possono essere usati separatamente come in questo caso che vedete sono solo due specchi ed è il cosiddetto Large Binocular Telescope ma quest'idea diciamo ha preso piede per cui la gente adesso vedete sta costruendo qua in alto a sinistra questo disegnino in realtà sono sette specchi ognuno di questi specchi è da 8,4 metri di diametro quasi tutti questi specchi sono già stati terminati e questo diciamo è costruito così come questa specie di petali rotondi e questi due telescopi qua sotto invece sono appunto il 30 meter e l'ILT che sono composti dal numero di segmenti che vedete sono 492 o 798 quindi quasi un migliaio di segmenti di specchi e dovrebbero aprire delle nuove finestre e lo faranno sicuramente per la loro potere collettrice quindi la quantità di luce e la risoluzione angolare purtroppo c'è un problema il problema qui adesso lo diciamo esemplifichiamo con questo signore Kolmogorov questo signore era interessato allo studio della turbolenza e alla sua epoca il problema della turbolenza non era nell'atmosfera e nell'ottico lui era interessato soprattutto per la turbolenza nei fluidi come l'acqua diciamo come per nelle cascate eccetera eccetera però sostanzialmente lui trova diciamo sviluppa tutta una serie di leggi di scala per cui la turbolenza viene prodotta a una certa grandezza di scala produce quindi delle celle di turbolenza di una certa dimensione queste per frizione interna nel fluido si rompono in celle di energia minore ma anche di dimensione minore a sua volta arrivano questo processo è a cascata finché arriva a una certa scala detta scala interna in cui l'attrito diciamo il rapporto fra le dimensioni delle celle e l'attrito è tale per cui tutta l'energia viene dissipata termicamente ora a noi non ci interessa il dettaglio della legge di Kolmogorov perché la dimensione dei telescopi o il cosiddetto parametro di Friedel su cui ritorno in un momento sono all'interno di queste due scale quindi come la turbolenza venga prodotta e come la turbolenza venga dissipata in un fluido non ci interessa anche se Kolmogorov ha studiato questo noi siamo all'interno di questo regime detto regime inerziale che ha tutta una serie di conseguenze la conseguenza è che l'immagine di un telescopio dopo che osserva una stella un astro dopo la nostra atmosfera è affetta da una serie di cosiddette aberrazioni continuamente variabili nel tempo per cui in particolare l'immagine balla, danza sul piano focale io punto una stella spero che la stella stia ferma e invece la stella si muove per effetto della turbolenza della nostra atmosfera anche nei siti più belli sulla cima dell'isola Hawaii sulla cima delle Canarie sulla cima delle picchie all'interno dei deserti in Arizona o in Cile eccetera eccetera questa turbolenza è molto più grande del potere separatore teorico diciamo del telescopio e sostanzialmente l'immagine viene allargata viene sfocata questo è un termine improprio diciamo però l'effetto è analogo viene deformata diciamo l'immagine in modo tale da rendere inutile mentre la quantità di luce raccolta rimane ovviamente con la dimensione del telescopio aumenta la sua scusate la sua dimensione è molto più grande di quella che dovrebbe essere naturalmente per farci un'idea del nostro nemico ok dobbiamo avere un'idea di come l'atmosfera diciamo deformi l'immagine ottica di una stella e la dobbiamo come dire misurare così come se la rugosità di una strada dipende dalla dimensione della ruota per cui per una ruota di 50 cm di diametro di un'automobile l'asfalto appare liscio un asfalto nuovo appare estremamente liscio mentre invece se io ci vado sopra con le rotelline per esempio di un trolley diciamo appare molto scabrosa lo stesso avviene per il fronte d'onda che è l'unità di misura è ovviamente la lunghezza d'onda o un radiante di fase per cui si può definire un parametro che si dice parametro di Fried dal nome di David Fried il primo che la David Fried era una persona che lavorava per la marina militare dopo fra un po' capirete anche perché in cui è la dimensione all'interno del quale la turbolenza atmosferica non cambia diciamo la luce di più di un radiante di fase diciamo di più di una lunghezza d'onda di una frazione della lunghezza d'onda questo parametro di Fried purtroppo è dell'ordine di 5, 10, 15, 20, 25, 30 eccezionalmente 40, 50 cm quindi qualunque telescopio più grande di questa dimensione ha questo effetto allora noi abbiamo qua un così in questo cartoon un fronte d'onda che viene emesso da una stella la stella è estremamente distante il fronte d'onda è piano poco prima di entrare nell'atmosfera terrestre quando entra nell'atmosfera terrestre viene deformato dalla turbolenza che c'è all'interno dell'atmosfera per cui quello che succede è che un telescopio che fosse posto diciamo in orbita quindi un telescopio spaziale come James Webb è in grado di osservare col potere risolutivo teorico che è dato dalla lunghezza d'onda ha diviso la dimensione del telescopio l'anda su di quindi l'Hubble Space Telescope effettivamente osserva con un diametro di 2,4 metri mentre il telescopio a terra è diciamo affetto da queste aberrazioni che sono continuamente variabili nel tempo e per questo motivo che il qualche masochista diciamo inventa l'ottica adattiva l'ottica adattiva consiste sostanzialmente nel non solo lasciare che ci sia la turbolenza che ovviamente non ci si può fare niente a meno di non mandare un telescopio in orbita che viene raccolta dal telescopio ma introduce una ulteriore distorsione del fronte d'onda tramite un cosiddetto specchio deformabile che dopo vediamo meglio che cosa è fatto e cerca di costruire una macchina in cui la correzione ha la stessa forma ma di segno contrario della dell'aberrazione in un certo senso introduce ulteriore aberrazione all'interno della macchina ma di segno opposto sperabilmente in modo che le due si compensino in un certo senso algebricamente lo fa in un modo furbo lo fa in in anello chiuso diciamo e e misurando la turbolenza dopo l'introduzione dello specchio deformabile in modo che la misura della turbolenza deve sempre essere diciamo funzionare attorno allo zero questo questo sistema prende il nome di ottica adattiva anche se diciamo c'è un confine con la cosiddetta ottica attiva che invece diciamo corregge per esempio le distorsioni dovute alle deformazioni termiche o dovute alla deformazione di gravità però concettualmente è esattamente la stessa cosa se non la velocità di correzione in questo caso all'estate di correzione tipicamente diciamo è totalmente inutile se è inferiore a un centinaio di hertz e per avere una ottima correzione come è necessario per esempio per vedere pianeti attorno ad altre stelle serve almeno 1000 hertz o anche 2-3 1000 hertz di continua correzione del del fronte d'onda c'è un altro fenomeno e poi diciamo cerco di lasciare l'aspetto strettamente astronomico quasi tutte le osservazioni astronomiche sono si dice background limited cioè il fondo cielo il cielo anche dove se uno punta il telescopio dove non c'è nessuna stella in realtà il fondo del cielo è abbastanza brillante ora le galassie più lontane che si conoscono tanto per darci un'idea sono ordini di grandezza più deboli della luminosità del fondo cielo ok e proprio per questo motivo se io riesco a strizzare diciamo l'immagine di una stella non solo la vedo meglio vedo meglio come è fatta vedo meglio se guardo un pianeta o se vedo due stelle riesco a discernere separate piuttosto che mescolate ma in più le stelle più deboli la cui luce era sparpagliata sul fondo cielo invece riescono a risaltare e quindi io riesco a misurare anche stelle più deboli grazie a questo fatto quindi non è solamente una questione di diciamo di acuità visiva se volete ma è anche una capacità di profondità ottica che riesce a esercitare l'ottica attiva proprio perché la stragrande maggioranza delle osservazioni di tipo astronomico sono così limitate dal background dal fondo cielo il cielo che è nero anche nei posti più neri non lo è tra l'altro se uno va in orbita si diminuisce solo di un terzo la luminosità del cielo perché la maggior parte in due terzi è data dalla luce zodiacale cioè dalla polvere che c'è all'interno del sistema solare diciamo naturalmente se uno lo fa in città è molto peggio perché c'è anche la luce riflessa dall'aerosol della cosa però qui ci stiamo riferendo ai siti più bui anche dell'Antartide per dire ok ora l'ottica adattiva diciamo a origine antica allora qua mi sono divertito per totale caso rifacendo i conti è venuto che 2222 anni fa così almeno riportano le cose ci sarebbe stato diciamo anche se probabilmente non è andato così è stata solo un'idea diciamo la sedia di Siracusa e Archimede avrebbe realizzato degli specchiustori quindi mi piaceva ricordare che gli specchiustori sono della specie di specchi di specchi deformabili il parte della luce anziché essere usata per l'energia viene usata come feedback per per verificare la posizione della stella l'operatore vede dove la macchia di luce va sul legno della nave e quindi controlla diciamo quindi agisce da way from sensor e il suo cervello agisce da way from computer e muove lo specchio deformabile facciamo un salto di un paio di migliaia di anni e arriviamo alla prima idea di ottica attiva è curioso ma la prima idea di ottica attiva molto diciamo precoce rispetto alla tecnologia risale addirittura quasi 70 anni fa in cui diciamo un astronomo relativamente famoso Babcock ipotizza questa possibilità di compensare il singe astronomico e immagina una macchina diciamo che è sostanzialmente concettualmente simile all'ottica adattiva di oggi c'è un tubo l'image oltica una specie di tubo come i tubi televisivi e c'era un diaframma rotante che fa come un test di Foucault e la cosa interessante è che il correttore diciamo lo specchio deformabile è un Eidofor che è una macchina usata per fare proiezioni televisive prima dell'esistenza dell'elettronica integrata in cui c'era un olio veniva depositato dell'olio su uno specchio e elettricamente era possibile cambiare lo spessore lo spessore dell'olio e quindi viene cambiato il cammino ottico e quindi viene inserita una deformazione deformazione del frontedonda e questo a destra è un sistema di Eidofor diciamo dell'epoca l'altro salto diciamo avviene quasi poco più di mezzo secolo or sono in cui viene inventato il primo sensore di frontedonda che viene che verrà sostanzialmente utilizzato fino a una trentina di anni fa universalmente per sistemi di ottica attiva quindi voi capite c'è bisogno di uno specchio deformabile e c'è bisogno di un sensore per misurare la turbolenza il questo sensore è stato inventato da Schack che perfeziona il sistema di Hartman e sostanzialmente fa una matrice di piccole lentine se il frontedonda vedete è piano le lentine formano un pattern regolare di stelle con un ccd o qualunque sistema diciamo elettronico uno può leggere con un limitatore CMOS può leggere la posizione di questi spot e se il frontedonda è diciamo corrugato la posizione degli spot si cambia mi state sempre sentendo vero perché io non ho nessun feedback ma è normale ma volevo essere sicuro perfetto ogni tanto lo dico per evitare la scena che parlo ok quindi torniamo un attimo alla alla questione di prima e voi vedete che sostanzialmente il rapporto fra quanto l'immagine è grande l'immagine teorica se un oggetto astronomico è grande adesso lasciamo stare il coefficiente dell'ordine del rapporto fra la lunghezza d'onda e il diametro quindi per un telescopio di 10 metri è 10 millisecondi d'arco per dire e se invece c'è la turbolenza dell'atmosfera è grande l'onda diviso R0 siccome R0 è 10 20 diciamo 20 centimetri se io un telescopio da 2 metri che è un piccolo telescopio è l'immagine 10 volte più grande che vuol dire che la luce è sparpagliata su un'area 100 volte maggiore per un tempo da 10 metri questo numero aumenta di un altro fattore 25 quindi voi capite che la turbolenza atmosferica sparpaglia la luce di una stella 2500 volte rispetto a quanto potrebbe essere se non ci fosse la turbolenza o se la turbolenza fosse cancellata dall'ottica adattiva quindi capite che il premio di un'ottica adattiva funzionante in termini astronomici è enorme e aumenta col diametro del telescopio più il diametro del telescopio è grande è più importante avere avere questa questa questo effetto c'è un altro problema è che purtroppo anche se la turbolenza diciamo avviene nell'ultimo decimo della luce di un oggetto che magari è lontano miliardi di anni luce per miliardi di anni luce la luce si propaga indisturbata nell'ultimo circa decimo di millisecondo viene perturbata dall'atmosfera ma non viene perturbata solo a terra viene perturbata già significativamente da circa 10 15 20 chilometri di altezza a seconda del sito questa turbolenza ovviamente si sviluppa tridimensionalmente è più grande verso il suolo ovviamente perché c'è una maggiore differenza di temperatura fra il terreno e l'aria che produce queste celle turbolenti di cui vi ho accenato prima però molte a causa dei movimenti nell'atmosfera diciamo molta di questa turbolenza si produce anche a quote più alte questo produce anche un altro effetto che è identificato nell'angolo isoplanatico per cui se io guardo in una direzione e misuro quanto la luce di una stella viene disturbata se io guardo vicino a questa a una certa distanza oltre a una certa distanza il modo in cui il mio oggetto viene deformato dalla turbolenza non è più correlato significativamente e quindi se io guardo in una direzione e correggo e uso questo segnale per correggere un oggetto lì vicino non ottengo il risultato sperato anzi oltre un certo angolo addirittura diciamo peggioro di un fattore radice di 2 e questo angolo purtroppo che è dell'ordine di R0 su H che è l'altezza media R0 è decine di centimetri H è qualche chilometro questo numero può essere dell'ordine dei secondi d'arco ecco tanto per darvi un'idea Giove è grande 30 secondi d'arco quindi diciamo è molto più piccolo della dimensione angolare della Luna o anche di uno dei pianeti più grandi del nostro sistema solare quindi sostanzialmente ci sono tre problemi il parametro di Fried per cui solo all'interno di una certa dimensione la perturbazione è piccola la frequenza di Greenwood è la frequenza a cui io devo far macinare la mia macchina nel mio sistema di ottica adattiva la correzione cioè è il tempo scala su cui cambia la perturbazione e l'angolo isoplanatico è la distanza angolare entro cui questa correzione è valida quindi con tutto questo problema la gente però si è ingegniata e oltre a costruire macchine diciamo che riescono a risolvere questo ha cercato di fare una sorta di tomografia tridimensionale della turbolenza e quindi di misurare in fronte d'onda da alcune direzioni risolvere naturalmente a 2 kHz di velocità il problema di come la turbolenza si stratifica nei vari strati non statisticamente ma proprio puntualmente in questo momento in questo layer a 15 km c'è una turbolenza che devia di 5 millisecondi d'arco e raggio in questo punto in questa differenza eccetera e utilizzando questo poter stimare il fronte d'onda in qualunque direzione naturalmente avendo a disposizione delle stelle devo dire noi siamo stati fra i primi gruppi che hanno fatto queste misure in cielo e ci siamo meritati la copertina di Nature con questo con un lavoro fatto al telescopio alle canari in cui abbiamo misurato appunto la turbolenza da varie direzioni e abbiamo stimato quella in una quarta direzione che è stato uno degli ingredienti per poter fare l'ottica dattiva a grande campo ecco e qui in questo grafico riassumo la difficoltà qui nell'asse orizzontale ho messo il campo di vista corretto quindi 10 secondi d'arco un primo un primo e circa un trentesimo del diametro della luna piena un grande telescopio da 10 o 40 metri quando ha un grande campo ha pochi primi di campo di vista e qui da questa parte invece è il grado di correzione ovviamente in linea di principio uno vorrebbe che il residuo sia 0 nanometri ricordate la lunghezza d'onda della luce come ordine di grandezza è mezzo micron 500 nanometri quindi questo è un quinto della lunghezza d'onda in grosso modo e questo è un cinquantesimo quindi se io voglio fare per esempio voglio andare a cercare pianeti non ho bisogno pianeti attorno a altre stelle voglio dire non ho bisogno di grande campo di vista i pianeti sono molto vicini però ho bisogno di un errore di correzione estremamente debole naturalmente qua c'è la parte facile poco campo di vista grande errore qui c'è la parte difficile quindi c'è un gradiente lungo questo e ognuno di questi sistemi ottici ha diverse caratteristiche e possono essere totalmente diversi uno dall'altro pur cadendo tutti nella definizione di ottica adattiva faccio un ultimo richiamo diciamo storico per ricordare qualcuno purtroppo in questo tempo che è stata tristemente risollevata diciamo per la storia della Mutual Shure Destruction che viene tragicamente ritorna tragicamente attuale che negli anni Reagan negli anni 90 negli anni fine metà degli anni 80 forse inizio degli anni 80 fecero la Strategic Defense Initiative che in Italia era noto come Guerre Stellari non come il film diciamo che era sostanzialmente un modo in cui uno scudo diciamo in cui i missili lanciati dai sovietici dovevano essere intercettati e danneggiati da un fascio laser diciamo abbastanza potente da danneggiare quindi c'era tutto un meccanismo di vedere diciamo il razzo nell'infrarosso tutt'oggi sono coperti da AITAR alcuni sensori infrarossi usati anche in astronomia l'AITAR è la cosa per vabbè adesso non entro in questo dettaglio e ovviamente la propagazione del laser per riuscire diciamo attraverso l'atmosfera a portare energia diciamo molto forte ha fatto uno sviluppo di ottica adattiva precoce e in parte tenuto classificato per cui David Fried la persona che ha gettato le basi di questa cosa ha potuto scrivere articoli solo più tardi ma era della cosa navale sempre sul voglio ricordare qualcuno forse si ricorda nel lancio del primo space shuttle in cui c'erano c'era il problema delle piastrelle diciamo che si staccavano e ammisero allora diciamo che avevano degli speciali telescopi che riuscivano a contare a verificare se non ci fosse stato degli ammanchi diciamo di piastrelle dello scudo termico e queste misure si seppe molto più tardi quando fu declassificato erano stati fatti da questo osservatorio alle Hawaii militare non sull'isola di Maunachea ma sull'isola di Maui dove c'è un osservatorio dell'Air Force in cui ironia della sorte molti anni dopo io e dei colleghi di Trieste andammo a osservare una stella questa è una delle immagini ottenute con uno dei sistemi di ottica adattiva costruiti quando l'ottica adattiva era diciamo secretata quindi c'è stato un momento in cui si sono costruiti sistemi di ottica adattiva in area militare e parallelamente leggermente più tardi oggi circa 33 anni fa nel sud della Francia i francesi sono stati i primi che hanno diciamo sono riusciti a far funzionare un sistema attivativo civile per una stella e vedete qui la stella che aveva questa dimensione allora si usavano tantissimo i falsi colori andava di moda adesso è andato via di moda diciamo vedete è diminuita forse di un fattore 2 e questo era allora classificato con grandissimo successo comprensibilmente adesso una roba del genere sarebbe un'ottica attiva che funziona un po' male veniamo ai due componenti principali uno dei componenti visuali è lo specchio deformabile uno specchio che si possa deformare diciamo il fronte d'onda come certi barracconi una volta c'erano quindi sono caratterizzati da un certo numero quindi c'è una superficie riflettente c'è una certa densità di attuatori che è definita dalla distanza fra due attuatori che possono spingere o tirare questa superficie dalla loro frequenza temporale quanto rapidamente possono muovere possono muovere a 100 Hz a 1000 Hz a 5000 Hz eccetera eccetera e anche dal tipo di accoppiamento cioè quanto diciamo un attuatore influenza gli attuatori vicini questo determina diciamo in modo sostanziale le caratteristiche degli specchi deformabili per molto quindi uno vuole avere uno specchio deformabile che sia in grado di fare forme come questa diciamo che hanno contemporaneamente sia un grandissimo gradiente vedete a sinistra da blu a destra a rosso perché ricordate nel Kolmogorov i bassi modi hanno quelli con le celle di turbolenza più grandi quindi mi devo aspettare un grande tip tilt e via via gli ordini diciamo di livello superiore via via più piccoli quindi se io sviluppo in una serie di espansione in serie bidimensionale su una superficie su una pupilla sono i cosiddetti polinomi di Zemmich voglio arrivare a riuscire a sovrapporre modi bassi molto forti con modi di alti molta di elevata frequenza la maggior parte dei sistemi per lungo tempo erano solamente costruiti con degli attuatori piezoelettrici i piezoelettrici sono sostanzialmente sono diciamo il simmetrico di quelli vabbè non devo spiegare a questo pubblico ma insomma di solito racconto il simmetrico degli accendini piezoelettrici in cui si fa il contrario ok comunque questi piezoelettrici vengono montati qui vedete per esempio questo è uno specchio con 1377 attuatori siccome i piezoelettrici agiscono per posizione se uno di questi 1377 attuatori si rompe in quel punto lo specchio rimane bloccato in quella posizione e gli attuatori intorno lasciano sempre un buco in quel punto quindi a un certo punto quando il numero di attuatori è aumentato diciamo si è visto che questa tecnologia ha un limite o questi attuatori hanno una reliability enorme diciamo oppure rapidamente se ne rompe 1, 2, 3, 4, 5 e lo specchio diventa rapidamente inutilizzabile perché è pur vero che posso continuare ad usare gli altri attuatori ma rimane diciamo la fossa per così dire diciamo il bozzo nel punto dove l'attuatore si è bloccato quindi 30 anni fa entra diciamo prepotentemente inizia a entrare prepotentemente l'Italia in questa nell'ottica adattiva quindi collega di Firenze Piero Salonari inventa diciamo i cosiddetti oggi sono noti come secondari adattivi questo è uno dei primi prototipi in cui c'è una sottile membrana una shell qua sotto che viene incollata in una grande quantità di magnetini permanenti al neodimio che si infilano qui dentro dentro questi fuori e qui ci sono dei circuiti con delle bobine magnetiche tirano spingono il magnete e questi dischi che si intravedono qua dorati sono in realtà delle piazzuole metalliche di rame che fungono da sensori capacitivi che ognuno di questi ha un piccolo anello di controreazione e agendo con la forza ma reazionata con la posizione riesce a tenere in posizione il telescopio il primo di questo telescopio incontrando un certo scetticismo planetario devo dire sono stati montati a questo telescopio il large binocular telescopio il cui 25% è italiano è uno specchio di dimensioni molto più grande di tutti gli altri specchi deformabili che si costruivano questo è quasi da un metro di diametro e ha aperto tutta una generazione di specchi ora sono montati in moltissimi telescopi nei maggiori telescopi del mondo e si stanno costruendo prototipi per i telescopi da 30 a 40 metri anche da un metro e 60 centimetri di diametro ah scusate mi sono tolto dire hanno il grande vantaggio che se uno degli attuatori o 5 attuatori si guastano uno li disinserisce elettricamente e informaticamente disinserisce il comando siccome sono comandati per forza diciamo meccanicamente quella regione interpola il valore assegnato agli attuatori vicini è chiaro che si perde una piccola diciamo quantità di capacità di controllare ma non viene diciamo deteriorata l'immagine bloccando in una certa posizione ma lasciando una interpolazione naturale se vogliamo meccanica rispetto a quelli adiacenti l'altra grande novità di cui sono in parte di cui sono non sempre in parte responsabile quando stavo in Arizona è un nuovo tipo di sensore di fronte d'onda in cui c'è una piccola piramide rifrattiva che viene diciamo investita dalla luce divide la luce in quattro immagini della pupilla in quattro immagini del telescopio e in questo video che adesso c'è un audio l'avevamo fatto per scopi così promozionali quindi vi lascio diciamo il vi evito di sentire la musichetta diciamo sottofondo sostanzialmente questo è un confronto tra il sensore di fronte d'onda a piramide e il sensore di fronte d'onda shakartman che è stato per 25 anni l'unico sensore di fronte utilizzato in questo ambiente il sensore di shakartman vi ricordate è costruito con un reticolo un array diciamo di lentine di lenti che ognuna di queste è posta sul piano della pupilla e produce una piccola immagine di una stella allora qui c'è il piano focale del telescopio la luce va a fuoco in questo punto si riallarga c'è una lente collimatrice che va su una matrice di lenti questo lente del tarredo shakartman ora qui per fare le robe semplici immaginiamo che il numero di sottoaperture ovviamente la pupilla è rotonda c'è un'ostruzione eccetera abbiamo fatto in modo che il numero sia 100 in modo da fare i conti facili diciamo quindi arrivassero mille fotoni ogni millisecondo ovviamente per ogni sottoapertura ci sarebbero solo 10 fotoni per sottoapertura quindi io ho un centinaio di spot e se ho per esempio un tip tilt della stella l'immagine per motivi di diffrazione non può essere più piccola di n volte con n il numero di sottoapertura in un diametro per la lunghezza d'onda diviso il diametro se io anche raccolgo numericamente diciamo nel mio computer la luce di tutti gli spot ho la luce di tutta la stella quindi ho un piccolo spot grande n per n per lambda su d che si muove nel senso la piramide la situazione è diciamo in un certo senso duale quindi la piramide è una piramide con un angolo al vertice quasi vicino a 180 gradi qui nel disegno è persino esagerata in quelle vere sono di pochi gradi diversi dal coso la luce colpisce la piramide viene divisa in quattro fasci c'è un unico collimatore che forma quattro 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 pupille ora nel caso che ci sia un diciamo un tip tilt e il mio sistema di attività stia funzionando in loop chiuso questo spot è grande l'anda su di e vedete un piccolo spostamento è sufficiente a far sì che tutte le sottoaperture di una delle quattro pupille si illuminino a scapito di quell'altra quindi se io confronto diciamo la sensibilità del sensore a piramide che ha uno spot equivalente molto piccolo n volte più piccolo ricordate che in questo esempio dove n è 12 è in realtà un telescopio grande 12 volt il cui diametro è 12 volt il parametro di Fried se anche prendete un parametro di Fried di 30 centimetri 12 volte un telescopio da 4 metri ma tutti i telescopi i grandi telescopi oggi sono da 8 10 metri e quelli che stiamo costruendo sono da 30 a 40 metri quindi questo n è magari pari a 20 a 50 o a 100 addirittura ok quindi capite bene che una se io concentro la luce in un punto molto piccolo sono estremamente sensibile se invece ho uno spot molto grande a parità di spostamento la luce diciamo si muove di poco da una parte all'altra ed essendo il numero dei fotoni limitato l'effetto è che a causa del rumore poassoniano dei fotoni io non riesco a misurare questo è vero per il tip tilt questa cosa si propaga per gli alti ordini in un modo che noi abbiamo previsto utilizzando il principio di Heisenberg e che successivamente da dei colleghi tedeschi è stato misurato una decina di anni dopo ed è venuto questo era lo Schackartman e questa era la nostra previsione i punti asterischi che vedete sono diciamo perfettamente nella nostra teoria quindi è stato un grande successo e oggi questo sensore viene utilizzato in moltissimi telescopi come aveva accennato quasi tutti i grandi telescopi oggi è diventato il sensore di riferimento questo sensore è anche un'altra proprietà però e quindi faccio uno dei due salti successivi quanto tempo ho? io sto parlando magari come si dice io ho immaginato di parlare per un'oretta sto sbagliando? sono andati via tutti? ti rispondo io per me va benissimo dopo non sono l'organizzatore quello che tiene il tempo ma per me io ti darei tutta l'oretta quindi se a un certo punto mi dite arriva in cinque minuti ci riesco no 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 vai avanti ok ok quindi praticamente diciamo vi ricordate che avevo parlato della possibilità di non correggere solo in una direzione ma di guardare tridimensionalmente in tante dimensioni ecco il sensore a piramide si rivela l'oggetto giusto perché perché io posso fare quello che si chiama layer oriented diciamo che è esemplificato in questo video senza che vi faccia fare tanta teoria che si trova negli articoli volendo voi vedete qui avete un telescopio sta guardando tre stelle in queste tre direzioni la luce quindi di questa stella di questa stella di questa stella in questo punto passa in un certo punto che magari è a 10 km di quota e nel mio sensore di fronte d'onda ho messo un sensore a piramide per ognuno di queste tre stelle ma le pupille si sovrappongono io posso focalizzare il mio rivelatore in quel punto quindi io posso in un certo senso quando ho più di stelle e ho più di una piramide come si dice collegata ad ognuna di queste di queste stelle andare otticamente a vedere il segnale metto a fuoco sul segnale cioè come è deformata dalla turbolenza l'immagine ben effetto di uno strato che è una certa altezza che è 5, 10, 15 km io posso regolando la posizione del rivelatore diciamo andare a vedere questa cosa come tutte le cose è facile dirlo concettualmente poi bisogna immaginare come costruirlo avevamo inizialmente pensato di fare delle piramidi a riflessione e di avere una specie di robot pantografo che posizionava le stelle poi abbiamo pensato di fare diciamo una specie di deformare dei reticoli in modo da come dire seguire diciamo i bordi mettere i bordi dei reticoli proprio sulla posizione delle stelle che ovviamente in cielo sono messe a capocchia e poi diciamo la soluzione più efficace era di avere un numero limitato di piramidi che con un sistema robotizzato andava a posizionarli in prossimità di una delle stelle e poi avere dei rivelatori che siano coniugati o a vari strati di turbolenza questa cosa è stata costruita in laboratorio per sperimentare dal vivo quello che succedeva e poi con un vero sensore di fronte d'onda questo è un piccolo sensore di fronte d'onda che è in grado di osservare fino a otto stelle contemporaneamente che è stato montato in Cile e questo sono io più giovane questo qui con il mio gruppo la sera che è la prima luce per chi non è astronomo la prima luce è come il lancio di un satellite è la prima volta che uno strumento che magari ci sono voluti dieci anni a costruire in laboratorio viene montato a un telescopio e punta la luce di una stella e in quel momento diciamo si vede cosa succede questo è un altro dei sensori che abbiamo costruito che è su un altro telescopio in Arizona che va a osservare mette contemporaneamente 12 piramide vedete le 12 piramide si posizionano con degli 12 attuatori qui e questo geggio anche ruota perché tutto il campo di vista ruota quindi questa grande catena porta cavi e questo è uno dei momenti in cui trasportiamo dalla torre della specola questo strumento per spedirlo in Arizona allora voi avete capito però che anche questi sistemi hanno bisogno di una stella naturale allora uno dice va bene come si dice se a un certo punto anche se il mio sistema è furbo è come la piramide è molto bella a un certo punto magari vorrò osservare una galassia in cui non c'è nessuna stella lì vicino è possibile allora la gente ha iniziato a esplorare altre strade e questi sono diciamo degli strati di materiale diciamo di elementi chimici che naturalmente divisi qui per lunghezza d'onde è un articolo molto vecchio ancora in Engstrom e diciamo qui c'è l'altezza in chilometri che sta sopra sopra la nostra testa e voi vedete che c'è una riga interessante per il sodio il sodio che è si eccita in una ghizzardonda particolare la stessa delle lampade sodio quando buttate il sale in una fiamma è a 92 chilometri e è una cosa tra l'altro agli astronomi nota fin dagli anni dagli anni 30 perché è una delle righe telluri che si dice io quando faccio lo spettro per fare la composizione chimica di una stella ovviamente devo sottrarre quelle dovute all'atmosfera della nostra terra che ovviamente sono comuni a tutte le stelle e galassie quindi c'è gente negli anni 30 che ha diciamo catalogato conosce a mena dito fatto in modo di conoscere a mena dito tutte le la composizione chimica della nostra atmosfera per come dire evitare di credere che ci sia del sodio magari su una stella o su un pianeta e invece semplicemente il sodio che è intorno alla nostra alla nostra terra ovviamente è una quantità molto piccola però quando si fanno misure di grande precisione questo ha un effetto e questo cosa produce produce le cosiddette stelle laser quindi sostanzialmente attorno a un telescopio questo è un telescopio da 8 metri di diametro in Cile questo non è un disegno è una foto vera ci sono 4 proiettori laser che mandano della luce laser sintonizzata sull'longhezza del sodio se ne vede un pezzettino per diffusione Rayleigh fino a 10 15 20 chilometri poi non si vede più niente e quando arrivano allo strato di 92 chilometri di quota eccitano lo strato di sodio che è in alta atmosfera in altezza di 92 chilometri e formano una stella una cosiddetta stella artificiale linea di principio le stelle artificiali quindi risolvono tutti questi problemi perché io le stelle me le faccio diciamo però queste stelle hanno tutto una serie di problemi ve ne dico due rapidamente siccome nella fase di salita i laser incontrano comunque la turbolenza dell'atmosfera il tip tilt è indeterminabile non è utilizzabile e l'altro problema è che non si formano all'infinito si formano a 92 chilometri e quindi siamo cosiddetto anisoplanetismo conico specie se il telescopio è grande voi immaginiamo il telescopio da 100 metri il cono da 92 chilometri all'altezza di 20 chilometri per esempio non è in grado di misurare tutta la turbolenza se voi prendete delle cartine di volo in Stati Uniti attorno ad alcuni osservatori questa è una delle isole Hawaii a Mano Achea c'è una come dire c'è anche Las Vegas perché lo fanno per un altro motivo ma qui diciamo sull'osservatorio astronomico a Mano Achea i piloti che volano nella zona hanno un warning che può esserci attività di laser da queste cose questo comporta tutta una serie di tecnologie ci sono dei laser che vengono dei sistemi laser che vengono lanciati verso lo spazio a seconda di come viene lanciato questi laser si possono vedere oggi la tendenza di lanciarli non dal centro del telescopio ma dai lati del telescopio per cui uno vede diciamo il laser lateralmente quindi come vedete questa è la parte Rayleigh cioè la parte nella bassa atmosfera fino probabilmente a 10-15 chilometri poi non si vede più niente l'atmosfera è troppo tenue e poi improvvisamente a 92 chilometri tac c'è una quantità di luce che arriva perché incontra lo strato lo strato di sodio quindi in realtà queste stelle dai adesso sarò più fiscale perché vedo 5 minuti 5 minuti allora questi laser sono in realtà diciamo non sono delle stelle ma sono dei sigari nel cielo quindi uno vuole costruire dei sensori di fronte d'onda che fanno questi modi salto il primo che abbiamo costruito vado subito al secondo qui vedete questo uno immagina come il laser si propaga in cielo e man mano che questo laser viene osservato va a coprire punti diversi di questa specie di piramide allungata se vogliamo abbiamo voluto diciamo ricostruire l'idea della piramide ma per le stelle laser abbiamo cercato di semplificare il più possibile e se uno fa una specie di prisma diciamo a due facce voi vedete che man mano che la luce del laser si propaga viene divisa dalle due facce e questo permette in un modo analogo al sensore della piramide di misurare la turbolenza questo è credo l'ultimissima slide molto veloce qui vedete ci sono strati di turbolenza 0, 2, 6 10 chilometri e c'è tutta una varietà di sistemi di ottica attiva ottica attiva che corregge solo la turbolenza al suolo ottica attiva che corregge la turbolenza in un piccolo angolo ma significativo oppure se il diametro del telescopio è più grande cosa che si può fare solo con telescopi di grande dimensione io posso ovviamente rifare di nuovo l'ottica attiva si chiama ground layer che corregge solo la turbolenza bassa o quella di un piccolo angolo oppure anche posso permettermi di allargare il campo di vista e quindi la probabilità questo è il concetto chiave di trovare delle stelle naturali diciamo diventa molto più grande quando io passo a telescopi di dimensione maggiore quindi certi sistemi di ottica attiva che richiedono il laser per telescopi piccoli potrebbero non essere necessari e potrebbe essere possibile fare la stessa cosa anche con dei telescopi di grandi dimensioni e cioè non sono degli analoghi per i telescopi di piccole dimensioni che però sono limitati alla fine siccome noi siamo burloni se voi fate in google cercate wayfront sensing fashionist quando abbiamo presentato i sensori di fronte d'onda di quel tipo li abbiamo presentati questa è all'orto botanico a diciamo a a Padova e abbiamo fatto una sfilata di moda in cui una mia collaboratrice è vestita da uno dei sensori di fronte d'onda ma siccome noi siamo un gruppo che da per un pezzo io sono stato quello che aveva i capelli più lunghi e molte delle ragazze che lavorano con me avevano i capelli più corti di me adesso madre natura mi ha diciamo coso avevano sempre sono sempre stati molto attenti a essere gender equalized anche in epoca non così importante e questo è un altro collaboratore un fanciullo che è vestito dall'altra variante del sensore di fronte d'onda ho tre minuti concludo solo ricordando che la stessa ottica adattiva può essere utilizzata per sparare dei laser in cielo e quindi diciamo spingere le vele del progetto starshot non vi faccio vedere tutti i filmini e arrivo a chiudere ricordando che ovviamente adesso vi ho mostrato le idee mie ma quasi nessuna di queste sarebbe stata possibile senza l'aiuto di tantissimi amici collaboratori collaboratrici che ci sono come si dice sparse in epoca e scusate di essere andato per avere consumato tutta l'ora che magari dovevo parlare per tre quarti d'ora quindi ho sforato i 15 minuti mi taccio provo a parlare io adesso non so come funziona qua grazie io e te capito sai cosa ho notato senza che fosse preparata sembra che io abbia solo un maglione nella vita perché nella foto che hai tirato fuori lì dove mi vedo stesso maglione che ho adesso quindi non ci siamo messi d'accordo non ci siamo messi d'accordo ma non ho solo un maglione vorrei anche dire allora intanto ti ringrazio veramente tantissimo ovviamente è stata una bellissima presentazione è veramente interessante anche l'iscurso storico e adesso chiedo agli altri se hanno delle domande ci sono domande sì io avrei una domanda scusate direi di alzare la mano così rimaniamo ordinati intanto vedo Paolo sì sì lascio volentieri il posto a Marco Manente poi parlo io senza problemi allora intanto Marco grazie mille io sono più a livello ingegneristico quindi faccio delle domande più relative alla tecnologia coinvolta mi chiedevo quali erano i tempi scala delle attuazioni necessarie a correggere le ottiche e se questo ha un limite fisico dovuto alla velocità degli attuatori o dell'algoritmo di controllo o delle vibrazioni che potrebbero indurre durante l'impulso di movimento ok allora diciamo ci sono due aspetti uno è cosa fa l'atmosfera diciamo che ovviamente astrae dal problema tecnico che hai a terra diciamo quindi siccome tu hai capito che la roba dipende dalla lunghezza d'onda tutto quello che io vi ho raccontato più io vado nell'infrarosso e più diciamo diventa più semplice quindi se io vado nell'infrarosso termico a 3-4 micron i 1000 Hz diventano 50 Hz i 30 cm diventano un metro eccetera eccetera quindi diciamo così questo è un po' un classico di quello che succede in astronomia cioè l'astronomo ha a disposizione una certa tecnologia e la sfrutta al massimo che può lasciando non spingendo eccessivamente la tecnologia ecco quindi se un attuatore per esempio l'attuatore piezoelettrico il problema è ovviamente legato alla massa che ci ha collegato ok e questo è il motivo per cui sostanzialmente gli specchi deformabili a piezo sono di dimensione piccola in quelli a magnete possono essere più potenti perché spostano delle masse più importanti perché muovono qualche millimetro di vetro di dimensione di qualche centimetro la distanza tra gli attuatori è dell'ordine di da 15 a 50 millimetri quindi una porzione di vetro di una certa dimensione e naturalmente la quantità di energia cioè queste bobine dissipano una certa quantità di calore quindi questi secondari adattivi dove ci sono 900 attuatori che con dei magneti tirano e spingono più li voglio far andare veloci e più devo dare diciamo dissipare corrente quindi hanno tutto un sistema abbastanza sofisticato di raffreddamento con acqua agricola ecco per cui per esempio è capitato al telescopio nei primi volti al telescopio in Arizona c'era una perdita dell'acqua agricola che è entrata nel gap fra la shell e lo specchio come puoi immaginare diciamo con un fermo di un mese per questo motivo quindi se uno riesce a togliere diciamo il diciamo il calore prodotto questo problema non si pone è chiaro che lo deve togliere perché se no va a costruire una roba che corregge la turbolenza ma se mette una stufetta da 10 kilowatt proprio nel fascio del telescopio in arrivo ovviamente non ho risolto il problema con il piezo questo problema veniva risolto usando degli specchi piccoli però per usare degli specchi piccoli non potevano far parte del treno ottico del telescopio quindi doveva essere costruito un sistema ottico dopo il telescopio che ne fa un'immagine molto piccola eccetera eccetera e quindi per fare questo si perdeva una quantità di di capacità ecco in numero comunque di riferimento così ci capiamo i migliori sistemi di ottica adattiva oggi arrivano a 1000 Hz e si sta lavorando per farli a 2000 Hz e devono muovere quantità dell'ordine di meno di un micron però se la dimensione della pupilla per un telescopio da 40 metri è 3 metri quindi tu devi immaginare uno specchio grande 3 metri nello spessore di alcuni millimetri che viene mosso a 1000-2000 Hz di una quantità di un micron se fai il conto dell'energia viene con i numeri che ti ho detto grosso modo ecco non so se ho risposto se ho risposto alla tua domanda se voglio buttare un'esca per qualcuno in linea di principio uno potrebbe anche fare un sistema ottico che cambia la luce in trasparenza e non in uno specchio riflessivo diciamo e per esempio è stato un periodo che la gente costruiva dei correttori a cristallo liquido diciamo ok ora i cristalli liquidi alla fine non si riesce a farli più veloci di 30-40 Hz per tutta una serie di motivi in più hanno un grande cromatismo intrinseco cioè cambia moltissimo il comportamento a seconda della lunghezza d'onda ora mentre se io faccio un sistema con un laser se il laser ha una certa lunghezza d'onda io posso fare tutto il sistema ottico e tutto il sistema di compensazione e correzione che funziona solo a quella lunghezza d'onda nel caso dell'astronomia non è possibile perché io voglio osservare gli oggetti celesti da 300 e rotti nanometri fino a 4 micron ecco sostanzialmente va bene grazie mille ok poi c'era Paolo sì grazie avevo due commenti velocissime la domanda il primo commento è quasi una scusa perché temo di aver sbagliato io il suo cognome ma forse regazzoni lei regazzoni fa parte della mia memoria storica ma anche della mia per cui temo di essere stato io e chiedo scusa veramente è legato forse a questo insomma il ricordo di lei regazzoni la seconda cosa veramente un commento ma solo perché ho visto Asiago dove io passo da tantissimi anni le vacanze conosco bene anche gli osservatori per fare peraltro di Asiago e li ho visti ma questo è soltanto anche lì è una cosa per una nota personale invece la domanda veramente a livello mi permetto di dire di General Public è una domanda a livello di layman language sento e quindi mi permetto questo anche per il tono di questi incontri si sente molto parlare della possibilità del miglioramento che si potrebbe avere e si ha sicuramente nell'osservazione spaziale qualcosa ci ha raccontato anche mi sembra nella risposta che ha dato pochi minuti fa proprio del fatto di uscire dall'atmosfera e di spostare l'osservazione dello spazio all'esterno sappiamo già che almeno per me che sono assolutamente un badilante mi sento di dire più che un badilante assolutamente un non competente mi sembra di sapere che già spostarsi sui satelliti migliora di molto l'osservazione quello che si sente dire che poter fare basi d'osservazione a livello di luna a livello di pianeti piuttosto che potrebbe dare farci esplorare in maniera enormemente differente lo spazio ecco le chiedo un commento è una domanda letteralmente lo comprendo da da incontro da incontro diciamo di basso livello lo capisco non di altissimo livello scientifico però mi sento di fargliela non c'è niente di basso di alto una volta che le cose sono consolidate è tutto di basso prima sono di alto un commento su Clay Ragazzoni per i più giovani che non sanno chi sia si devono andare a vedere il film Rush in cui c'è la stagione fra Nicky Lauda e James Hunter quindi sono sicuro che capisci di cosa sto parlando per averla vista a suo tempo e ne ho fatto un bellissimo film in cui c'è anche la figura invece per l'altra cosa assolutamente vero un telescopio messo in orbita diciamo straccia fammelo dire in modo così diciamo popolare diciamo un analogo telescopio a terra e qui è proprio la questione un analogo diciamo lo space telescope che è stato mandato è costato una certa quantità di soldi c'è voluto un certo tempo per riuscire a mandarlo in orbita dopo di quel telescopio si è deciso di farne un altro che è il James Webb e l'Hubble Space Teles è una roba degli anni 90 e il James Webb è una roba del 2020 cioè di 30 anni dopo quindi da un telescopio da 2 metri e mezzo farne uno da 6 metri e mezzo sono passati 30 anni e devo dire sta andando tutto bene il James Webb farà una una premiere per far vedere diciamo i risultati ovviamente lì non c'è la turbolenza ovviamente il telescopio non è a portata di mano non si può andare a montarci lo strumento di ultima generazione per l'Apple Space Telescope si poteva fare perché era in orbita bassa e la NASA lo ha fatto diciamoci la verità un pochino perché ha vissuto diciamo nella coda dell'epoca d'oro del libro del secolo breve diciamo cioè diciamo in quell'epoca in cui la competizione con era si è svolta nello spazio e quindi un po' quello che loro chiamano display determination faccio vedere sono capace di andare a mettere un telescopio e a cambiarlo c'è un telescopio analogo che è in orbita che serve per osservazioni strategiche della Terra strategiche nel senso di militare diciamo e sono oggetti che costano grosso modo mille volte l'analogo l'analogo a Terra per l'astronomo poi c'è un altro problema che ci sono così tanti oggetti in cielo così tanto possibilità di robe da vedere che per esempio costruire 20 telescopi 20 telescopi uguali non è che gli altri 19 non fanno niente perché il primo ha già fatto tutto c'è così tanta roba da fare e la roba è variabile nel tempo che 20 telescopi fanno 20 più cose di un unico telescopio certo un telescopio più grande riesce a fare delle cose che nessuno dei 20 precedenti riescono a fare quindi direi che è giusto mandare telescopi nello spazio per quelle cose che sono infattibili da Terra come ad esempio i raggi X o gli ultravioletti del vuoto oppure altre lunghezze d'onda altrimenti non ricevibili da Terra e per le lunghezze d'onda osservabili con i telescopi da Terra fare quelle cose diciamo una tantum come sono appunto l'Hubble Space Teles o il James Webb che sicuramente l'Hubble Space Teles ha rivoluzionato il James Webb sicuramente rivoluzionare l'astronomia però come dire il workhorse rimarranno i grandi telescopi da Terra con l'ottica adattiva oramai per queste dimensioni ecco ho dato una risposta così diciamo un colpo al cerchio un colpo alla botte però per dare l'idea l'ultima cosa io ogni tanto faccio sempre vedere il primo lancio dell'Ariane 5 dove c'era Cluster che il lancio è fallito è stato un incidente catastrofico ricordiamoci che mandare roba in orbita rimane un business complicato il Soyuz che adesso mi tocca dire era abbiamo lanciato nel 2019 un satellite che ha menzionato Maria con il Soyuz ora non sarà più possibile fare almeno non per un pezzo per via di questa situazione con la Russia ed era il lanciatore più affidabile e nonostante questo c'è un incidente catastrofico con i 200 lanci lo Space Shuttle su 135 lanci ha fatto tre major accident di cui uno è andato nell'orbita sbagliata ma la gente ha portato a casa il fondo schiena e due invece si è perso il carico più importante che era quello umano a bordo e anche se consideriamo solo i primi due vuol dire una failure ogni 70 lanci che è un numero importante quindi quando uno costruisce un telescopio deve mettere che va in orbita deve mettere nel gioco nei parametri del gioco il fatto che potrebbe essere perso al lancio ecco certo se ho capito bene tenendo conto anche oltre chiaramente al costo umano quando ci sono gli uomini come nello Space Shuttle anche solo nei satelliti quando c'è il costo solo anche in termini di denaro il failure può essere anche solo bello pesante se ho capito bene le cifre in gioco sì 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 bisogna anche la storia più complicata ovviamente ma per esempio un telescopio un payload che viene lanciato su un carico con delle persone a bordo ha un livello di certificazione molto più pesante e quindi più costoso di fatto di un satellite che viene lanciato su un lanciatore che lancia solo un satellite ecco diciamo ovviamente il carico più prezioso sono le persone a bordo e quindi bisogna che il satellite non possa come dire danneggiare contribuire a un problema per le persone a bordo quindi livelli di sicurezza e tutto immagino quindi diciamo da questo punto di vista l'Hubble Space Telescope è costato di più del James Webb diciamo non è così in assoluto il James Webb è 6 metri e mezzo perché il James Webb è più grande ma il James Webb è stato lanciato su un Ariane se succedeva qualcosa vabbè perdevamo l'Ariane e il James Webb tutti diciamo per un mese piangevamo però era finita lì nel caso dello Space Telescope viene lanciato con a bordo delle persone il carico prezioso è senza infuzione diciamo ecco diciamo per chiarire diciamo così il quadro poi è tutto molto più il mondo dello spazio adesso non devo spiegarlo a qualcuno di voi tra cui Maria ma insomma è un mondo complicato ecco diciamo quindi è vero diciamo io prendo il mio telescopio anziché far tutto sta otterra attiva lo metto in orbita e che ce l'ho però diciamo per fare questo e per farlo magari portandosi un telescopio grande e con la tecnologia di frontiera è sostanzialmente o impossibile o così costoso da essere proibitivo ecco certo grazie c'è anche Veronica Spirito che ho alzato la mano buonasera a tutti grazie per questa opportunità io mi presento brevemente giusto perché non mi avete mai visto sono una dottoranda dell'istituto TECIP del Sant'Anna di Pisa e ho avuto la possibilità di partecipare a questo webinar in quanto mi sto avvicinando allo studio dell'ottica adattiva applicato però alle comunicazioni ottiche in spazio libero quindi non so se sto uscendo completamente fuori tema no 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 ok e a tal proposito volevo chiedere perché c'è un po' di scetticismo in giro quanto può veramente l'ottica adattiva aiutare le comunicazioni ottiche satellitari cioè la fase di nel passaggio atmosferico quindi mi riferisco ovviamente al downlink e all'uplink e seconda domanda abbiamo visto i sensori way from sensor se c'è un limite di angolo di elevazione a cui può funzionare questo tipo di ottica adattiva utilizzando il fascio di discesa di comunicazione ok allora ovviamente conosco Paolo Villoresi abbiamo anche fatto in passato dei lavori con ASI su Colors anni fa su questa cosa abbiamo collaborato marginalmente quindi ovviamente adesso non sono un esperto della problematica delle comunicazioni quindi però ti do due snapshot così giusto per capire la prima è il problema dell'uplink e il downlink sono due problemi molto differenti e gli americani usano questa idea del del vetro della come si chiama della doccia ok sai che alcune docce hanno un vetro diciamo così un po' deformante diciamo in modo che non si possa davvero vedere la persona nella doccia adesso per capirci e se io guardo le stelle è come se sono da dentro la doccia attaccato al vetro e guardo fuori ed è viceversa quindi la turbolenza tu sei immerso nella turbolenza e guardi fuori e viceversa dall'esterno verso il basso è il contrario diciamo ok quindi con questo diciamo primo aspetto quindi l'uplink e il downlink sono due situazioni totalmente diverse solo una delle due ha analogie con quella analogie strette diciamo con quella astronomica chiaramente anche quell'altra analogie però diciamo poi tutti i numeri sono tutti diversi ovviamente perché i bracci ottici sono diversi eccetera eccetera la questione di quanto basso si può andare diciamo quanto basso sull'orizzonte si può andare sostanzialmente almeno con una certa approssimazione ovviamente il cammino ottico aumenta moltissimo quindi cioè se io ho 20 km di atmosfera quando osservo possono diventare 40 a 5 gradi diciamo uno vede a 30 gradi diventa il doppio diciamo in astronomia si chiama se non mi ricordo più come si chiama in astronomia comunque vabbè a 30 gradi è il doppio quindi man mano che uno scende diventa 3, 4, 5, 6, 7 volte diciamo lo stesso percorso quindi da un lato il problema della tomografia diventa più complicato perché si stende su un piano e dall'altro ovviamente la turbolenza è superiore quindi l'immagine è maggiormente aberrata dall'immagine quindi ci siamo siamo in una situazione diciamo più difficile quindi è chiaro che tutto quello che si ah non solo ma in astronomia uno va a farlo a Maunachea sulla cima dell'isola Hawaii o diciamo alle Canari e sulla cima a 3000 metri mentre invece magari in comunicazione ottica uno lo vuole fare da un ambiente se non cittadino almeno diciamo a quota di livello del mare tipicamente diciamo ok quindi è chiaro che come dire è lo stesso problema molto più difficile ecco diciamo quindi concettualmente diciamo è un problema di un salto che può anche essere di uno o due ordini di grandezza mi rendo conto diciamo però quindi posso immaginare uno scetticismo adesso non sono abbastanza esperto da risponderti no no non è un problema ma a livello costruttivo un numero massimo di attuatori implementabili su un telescopio che non arriva a quei diametri di cui parlava lei sì sì tu hai presente c'è un problema dell'etendue o l'invariante di Lagrange o Eomega diciamo per cui uno se il campo cioè se io voglio mettere diciamo se una tecnologia con un pitch cioè un passo fra un attuatore e il successivo non è ovviamente diciamo un problema ottico di metterci l'immagine nell'astronomia c'è il problema opposto a quello che c'è in questo tipo di telescopi per cui io avendo una pupilla da 8 metri 10 metri 40 metri preferisco sensori scusa non sensori specchi deformabili con diciamo un pitch cioè una distanza tra attuatori via via più via via più grande ecco se vuoi un commento diciamo da non voglio dire sono stato come si dice etichettato innovatore diciamo ok erroneamente diciamo questo come altri campi diciamo c'è un problema di fissità neuronale per cui la gente associa quello che corregge la deformazione della frontonda allo specchio deformabile quindi nel momento in cui io stabilisco che l'unico modo di correggere l'aberrazione con lo specchio deformabile è chiaro che mi confino a tutta una serie di cose come ho detto prima se è vetro alluminio eccetera eccetera la massa è quella f uguale a m per a non è che ci si esce molto diciamo da queste cose diciamo però specialmente per un problema che è uno o due ordini di grandezza più difficile come potrebbe essere quello di cui stai parlando te almeno per aperture significative ecco diciamo adesso se poi il telescopio è da un centimetro di diametro diciamo tutto quello che abbiamo detto diciamo ovviamente diciamo diminisce ma immagino stai parlando di diametri più importanti di questo anche se non importanti come qui nei telescopi grandi inventare diciamo concepire e inventare un correttore a riflessione scusami a rifrazione cioè una piastra di vetro con in mezzo del fluido di cui tu puoi cambiare lo spessore del fluido oppure c'è qualcosa su questo non so forse conoscere lenti adattive di come si chiama di Bonora c'è tutta la roba dei cristalli liquidi che si è sostanzialmente arenata per due motivi di cui uno è il cromatismo che nel caso della comunicazione ottica magari non interessa perché magari si usa una lunghezza monocromatica e quindi potrebbe essere il caso di andare a ripescare c'è dei lavori anni fa di Gordon Love su queste cose perché in giro diciamo un po' la gente tende a voler usare le apparecchiature esistenti e cose invece magari deve dire no un specchio deformabile li butto dal barranco come si dice alle Canarie e devo inventare un nuovo tipo di correttore oggi usando la tecnologia dell'ottica attiva esistente sviluppata dall'astronomia se io la devo applicare a un problema che è uno o due ordini di grandezza più complicato ovviamente vado incontro a delle difficoltà però sto dicendo quasi una roba banale ecco se vuoi un suggerimento su un'area in cui a naso noi ci abbiamo provato però con gli israeliani volevamo fare una roba che cambiava l'indice di rifrazione con delle onde stazionari dentro un cristallo eccetera però non siamo usciti oltre una certa fase ma se uno inventa un sistema di un vetro diciamo che cambia il fronte d'onda ovviamente è comandabile a un kiloverse da qualche parte che lo attraversa cambia è un game changer ecco capito cambia non solo l'ottica adattiva dell'astronomia ma immagino quelle di altri tipi di tecnologie ci sono altre tecnologie oltre a quella che dici te c'è appunto l'imaging strategico puoi immaginare la gente vuole fare un binocolo che vede diciamo a 20 chilometri di distanza capito da un aereo diciamo c'è per esempio microscopia confocale di fare queste cose in vivo qui diciamo ci sono dei settori di applicazione non solo quello del della della comunicazione ottiche in cui i problemi sono più difficili di quelli già complessi che ho raccontato ecco non ti ho risposto però insomma ho voluto provare a darti qualche indizio sì grazie mille utilissimi grazie va bene c'è ancora Giovanni Santi che tu ben conosci sì buongiorno a tutti buongiorno professore la mia domanda era più una curiosità che una domanda tecnica allora lei ha parlato di il problema dell'ottica adattiva di perché è stata introdotta l'ottica adattiva per l'osservazione da terra e anche la non necessità di introdurre l'ottica adattiva per l'osservazione dallo spazio volevo un attimo rigirare il problema ossia siamo pieni ormai di satelliti che vogliono l'osservazione dallo spazio verso la terra quindi generalmente immagino so orbita Leo e Meo quindi non parlo tanto dell'osservazione di oggetti delle dimensioni delle decine di chilometri se vogliamo ma magari quelle immagini talvolta militari per l'osservazione di oggetti piccoli come una persona eccetera allora immagino appunto che non siano dotati di ottica adattiva quindi volevo un po' collegarmi a questo punto per porre un po' quello potrebbe essere il problema o in caso la soluzione quindi l'introduzione dell'ottica adattiva per migliorare se vogliamo addirittura le prestazioni dal momento che l'osservazione implica un'osservazione attraverso l'ottomosfera che è quella terrestre non so se mi sono spiegato cioè tu stai parlando dell'imaging da fuori verso la superficie terrestre diciamo sì esatto allora è chiaro che diciamo cambia per esempio la turbolenza che c'è a terra è irrilevante perché se io guardo se io guardo diciamo se anche a terra il raggio viene deviato di 10 secondi d'arco che è una quantità enorme se il braccio se questo succede 10 metri dal suolo se mentre guardo una stella 10 secondi d'arco sono 10 secondi d'arco è fine ma da fuori e giù 10 secondi d'arco per un metro di braccio forse fra meno di un millimetro 10 millimetro quindi diciamo diciamo l'ottica adattiva per fare l'imaging strategico sulla terra è solo richiesto per la turbolenza ad alta quota diciamo ok quindi posso immaginare scusami che ci siano sistemi di questo tipo un'altra area è quella diciamo e sono onesto non ho mai ho firmato NDA per altre robe ma per questo non ho non discorso l'organismo quindi non ho in realtà informazione di prima mano su cosa fa la gente di roba classificata per guardare roba ground based diciamo però io se dovessi inventare io un sistema sarei tentato di farlo a luce strutturata diciamo cioè illuminando illuminando l'oggetto sfruttando il fatto che è più facile cofasare una roba che illumina piuttosto che una roba che riceve diciamo ecco però diciamo entro ampi limiti non c'è bisogno di nessuna ottica adattiva guardando da fuori verso la terra per un telescopio da un metro che guarda la terra sostanzialmente non c'è bisogno cioè l'effetto della turbolenza atmosferica è trascurabile rispetto alla risoluzione teorica di un telescopio di quella classe ecco questo è un conto che fa chiunque che fa i bracci capito sapendo i numeri del CN quadro di quelle curve che ti ho fatto vedere sì sì ho capito quindi non c'è ne proprio necessità a quel punto sì cioè non c'è necessità poi la cosa vuoi fare ovviamente capito però come dire dopo di che se c'è gente che sta facendo imaging strategico sintesi di fase eccetera eccetera come lo si fa per il cielo per cui i VLT sono su 200 metri sono a distanza di 200 metri e si fa imaging di stelle con risoluzione equivalente a un telescopio da 200 metri facendo sintesi di fase da questi per non parlare nel radio diciamo ok ecco scusami un'altra cosa è uno può fare le robe a radar diciamo cioè in un'altra lunghezza d'onda capito e in quel caso lì è un tipico caso in cui fai l'analogo della luce strutturata diciamo non so se hai capito cos'è la luce strutturata cioè io illumino per esempio un pattern interferometrico diciamo e anche se è un rivelatore slofio diciamo con risoluzione modesta o dell'informazione ad alta frequenza spaziale e adesso bisogna mettersi a farlo nello spazio di furie ma diciamo chiunque che ci si mette non è che una roba inventata adesso ecco questo voglio dire insomma quindi se io ho la capacità di illuminare il mio l'oggetto che voglio osservare dove se lo faccio nel radio lo illumino con gigahertz se lo faccio nell'ottico lo illumino con un fascio laser magari nell'infrarosso capito secondo me questo sistema a occhio mi sembra un sistema più vincente dopodiché purtroppo per fortuna non conosco se lo conoscessi non potrei dirlo perché avrei firmato un NDA ma in questo caso non l'ho fatto ecco diciamo quindi non lo so c'è stato un periodo interessante nell'epoca in cui non hanno declassificato tutto diciamo in cui si è andato in Nuovo Messico sono stati lì alle Hawaii questi osservatori dove facevano questo tipo di imaging in cui non potevano dire tutto ci siamo divertiti come matti diciamo in quel periodo mi ricordo bisognava dichiarare adesso questo lo dico così come folklore bisogna dichiarare per esempio se avevi macchine fotografiche e io avevo una Zenith che è quella fatta in Russia diciamo quindi mi ricordo che devo avere ancora tenuto da qualche parte che mi fanno entrare in una facility dell'user force io dichiarando che è una macchina fotografica russa diciamo che avevo una macchina fotografica russa solo perché erano più economiche non perché avessi nessuna particolare velleità ma a quell'epoca squatrinati le reflex più economiche venivano o dalla Russia o dalla Germania Est va bene cioè l'ultimo l'ultimo intervento di Lucanos che magari forse è per mandarci per dirci di smetterla no 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 ci mancherebbe anzi io ringrazio tanto Roberto perché non riesco a togliermi da qui non riesco mi si deve essere bloccato qualcosa se potete voi disinserirmi il mio sharing della cosa così vi vedo perché non riesco a vedervi però questo quando fosse ora no no ma non farne non farne una una cosa dovrei aver finito ok dai dai vai tranquillo perfetto dovrei aver interrotto ora la perfetta la condivisione ok grazie mille per l'interessantissimo contributo e che avrebbe meritato anche un paio d'ore perché sia per i contenuti che per la divulgazione è veramente veramente interessante e ben fatta e complimenti e l'interesse anche che suscita ovviamente questi argomenti e anche lì come domande mi devo contenere quindi faccio più che altro una curiosità che avevo che ho sentito anche recentemente e quindi volevo un tuo commento a proposito del telescopio quello cinese il FAST che tipo di quel che è stato definito pochi anni fa se non ricordo mai del 2020 quando è stato messo in azione e anche quello fa parte di quella categoria perché dovrebbe essere è un 50 metri quanto è ancora più grande mi sembra come diametro allora il FAST è un 500 metri ed è un radiotelescopio però ah ok fa un paio con radiotelescopio di Arecibo di Puerto Rico ad Arecibo è un radiotelescopio ok e è uno dei due radiotelescopi nel film Contact che devo dire la verità io sono maniaco di film ma a me Contact non è piaciuto però mi dispiace per quelli che che invece gli è piaciuto ed è un radiotelescopio che con una superficie diciamo concava fissa e con il ricevitore che con dei campi può essere mosso diciamo e quello di Arecibo è stato prima danneggiato dal come si chiama da quel tifone che c'è stato in quel periodo dopo e dopo successivamente si è ulteriormente deteriorato guarda un nostro collega che è andato lì in viaggio di nostra ci ha mandato qualche giorno fa la fotografia dei resti diciamo e adesso è totalmente inutilizzabile quello ex americano diciamo comunque il FAST è un ottimo radiotelescopio ma appunto osserva lunghezze d'onda molto più lunghe dove la è estremamente trascurabile ecco diciamo un'altra finestra sì sì perfetto ok e l'ultima cosa è proprio veloce secondo te quali sono adesso dopo l'ottica adattiva le ulteriori innovazioni che si possono che vedi intravedi per andare ancora più avanti diciamo nell'evoluzione e quindi essere ancora più spinti nell'immagine nell'imagine insomma dello spazio allora scusami dico tre cose la prima è sulle stelle laser secondo me siamo a caro amico ti scrivo così mi distrago un po' per fare la scanzone di cosa cioè abbiamo scalfito le possibilità a disposizione questo è il primo commento il secondo è quello che ho già detto prima cioè un game changer di questi telescopi sarebbe avere un correttore a rifrazione diciamo nessuno ci sta ci sta seriamente lavorando ma secondo me è un errore magari diciamo non è un errore in passato ci hanno provato in parecchia in gruppi molto forti e non sono riusciti a cavarne un ragno dal buco quindi posso capire che però se uno riuscisse a farlo per esempio faccio un esempio sui telescopi esistenti se io riesco a fare una lente correttrice la metto ovunque diciamo ok sarebbe anche quello un game changer e l'ultima cosa è fare in in ottica quello che già da tempo si fa nel radio voi avete visto tutte le immagini dell'Einstein Telescope che c'era quella ciambella che ecco quello è diciamo i radiotelescopi siccome la lunghezza d'onda è più lunga si possono registrare da vari radiotelescopi poi uno una volta si portavano i nastri adesso si si manda via FTP diciamo e l'interferenza cioè tu non vedi la luce ma vedi le onde della luce nel radio riesci a vedere le onde con la loro fase quindi puoi fare l'interferenza a posteriori quindi poi un telescopio in Australia e uno in in Europa li puoi cofasare anche se sono distanti insomma magari quelli lì sono dall'altra parte del mondo però hai capito diciamo si 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 inferiori questo nell'ottico che sarebbe quello che si chiama interferomia eterodina diciamo si riesce a fare con una fatica bestiale nell'infrarosso termico diciamo diciamo è più a livello così tanto per dire di averlo fatto che sia utile ecco se uno riuscisse a costruire delle macchine dei rivelatori che vedono come dire la fase della lunghezza dell'onda elettromagnetica nell'ottico naturalmente è chiaro che sono dei limiti diciamo quantistici in questo è un altro game changer i rivelatori come si chiamano gli STJ che sono quelli a temperatura 0,2 gradi Kelvin eccetera eccetera sono anche rivelatori che ogni pixel dice la lunghezza d'onda che ti arriva quindi non c'è più bisogno di filtri spettrograsi queste sono le due tre qui però come al solito è difficile prevedere sì sì no è chiaro qui la gente lavora da 10-20 anni e ripeto in qualche caso non si è cavato niente ecco capito però sono quelle cose a grande premio però che poi alle volte magari è anche un'evoluzione tecnologica che può determinare risultati cioè magari una tecnologia che si rende disponibile che potrebbe implementare quell'idea che al momento sembra non raggiungibile io guarda sono tentato a volte di capire qualcosa di questo sviluppo sui computer quantistici per capire se se c'è qualcosa storicamente viene detto i CCD li scoprono perché la luce dà fastidio alle giunzioni PN come il vuoto dava fastidio alle valvole termoioniche diciamo sì sì quindi il side effect praticamente poi diventa diventa la scoperta dominante però capito però ecco adesso siamo a livello congetturale però tu sei del CNR sono del Lino siamo il posto giusto dove provare a fare congetture ecco non farei una start up sperando di guadagnarsi con queste robe ecco ok grazie mille di nuovo ecco grazie a te va bene direi se non ci sono altre domande abbiamo fatto più che tardi e potremmo andare avanti ancora no quindi è bene che ci diamo un'autoregolata e ti dico ovviamente Roberto grazie grazie mille non so se qualcuno Lucano Sfollo vogliono aggiungere qualcosa o ci salutiamo qua ma sicuramente veramente grazie grazie per questa bellissima serata almeno da parte mia Maria mi hai chiamato e colgo l'occasione per ringraziare e se posso essere sincero strappare due promesse beh una magari di incontrarsi personalmente magari se se possiamo darci del tu se se ci puoi venire a trovare qualche volta in una delle nostre sedi o se magari possiamo venirti a trovare e incontrarci personalmente poi magari trovare anche un altro momento per per scambiarci ancora qualche incontro venirci anche a trovare virtualmente in questi nostri giovedì per parlare di qualche perché ho la sensazione che come ha detto forse Lucanos prima potremmo andare avanti molte ore a chiacchierare di queste cose e non ci stancheremo per cui grazie davvero non so se anche Lucanos voleva dire sì no confermo infatti anche anche il discorso che facevi sul sul discorso della della rifrazione quindi di a coindice di rifrazione variabile qualcosa stiamo facendo per altre applicazioni quindi potrebbe essere invece ecco magari questa applicazione qui non la conoscevo ma potrebbe venire fuori qualcosa interessante quindi avere modo magari di parlare ancora potrebbe essere sicuramente molto interessante e stimolante quindi concordo in pieno con quanto ha detto da Paolo va bene volentieri magari continuiamo purtroppo purtroppo per lei a avere Maria come trade union ci scambiamo la promessa che la prossima volta facciamo una battuta deve cambiare il maglione però per fortuna poi guardato non lo vedete veramente infatti infatti è stato ricontrollato ci crediamo sulla fiducia ci crediamo sulla fiducia avresti potuto millantare ah ma quello è uno dei miei maglioni brillanti ma poi è quello con la stella quindi sai ti ricordi che hai fatto la battuta Roberto quando arrivi tu io metto quella la stella va bene davvero grazie ancora e buona serata buona serata a tutti grazie buona serata a tutti ciao grazie e buona serata a tutti grazie